Peter, la devi finire con il paracadutismo. Ormai hai distrutto un mezzo avvicinato e io ho paura che tu ti faccia male seriamente. Mi dispiace, ma il paracadutismo è ciò che sono adesso. Sai come funziona? I pesci nuotano, gli uccelli volano e i gay alle feste devono sempre parlare male del padrone di casa. Oh mio Dio, guarda, una ciotola di M&M's. Cosa abbiamo? Sei anni? Lo so, devo assolutamente farmi dare la ricetta di questi mini hot dog. Oh mio Dio, Josh, complimenti. Questa festa è davvero fantastica. È tutto così perfetto, ci stiamo divertendo tantissimo. Oh, grazie, sono felice che siate venuti. Ci ha visto, possiamo andare.